Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò e spiegherò come incendiare le strutture. Molto semplice. È un incarico in arrivo e può essere completato in vari modi e in varie parti della mappa. Il mio punto preferito per fare questo incarico è brughiere brumose, qui praticamente. Perché? Perché qui trovate sempre delle lucciole che potete utilizzare per incendiare alberi e varie altre strutture. Potete trovarle anche nella foresta frignante, però qui sono molto veloci, molto semplici da trovare. Infatti le recuperate qui tra questi due alberi. Tutto quello che dovete fare è raccogliere le lucciole, ovviamente non dieci lucciole anche se la sfida vi richiede di incendiare dieci strutture, e scagliarle contro edifici, alberi e qualsiasi struttura che trovate. Una volta che siete arrivati a dieci strutture incendiate, completerete l'incarico.